Il Ponte Serra si interviene per il ripristino delle condizioni di sicurezza della struttura. Un primo appalto urgente è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Conoci per gli interventi immediati di manutenzione straordinaria e recupero strutturale del ponte. Dopo la rinuncia di Air Italy a spostare i collegamenti in continuità territoriale su Alghero, quando l'aeroporto di Olbia sarà chiuso, la Regione studia alternative ed è pronta a chiedere ad All'Italia di aumentare posti e voli nel nostro scalo dal 3 febbraio al 13 marzo. La Plataforma per la Liengua da qualche giorno ha attivato una petizione per sollecitare azioni per l'insegnamento delle lingue ilgherese nelle scuole. Anche l'omnium si batte nello stesso senso, consegnata una lettera al Presidente del Consiglio regionale Paes e al Sindaco Conoci. Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV, questi erano i titoli dell'edizione di oggi del nostro telegiornale che come avete sentito apriamo purtroppo con una notizia di cronaca. Una tragedia avvenuta questa mattina intorno alle 8.30 in via Aldo Moro in prossimità dell'incrocio con via degli Orti. Un uomo di 45 anni che stava camminando e morto dopo aver accusato un malore sul posto. Sono intervenute due ambulanze del 118 ma per l'uomo che si è improvvisamente accasciato al suolo non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati di gestire inoltre la viabilità di un tratto che alle prime ore del mattino si sa da Alghero è particolarmente trafficato. E come avete sentito dal nostro sommario passiamo a parlare adesso dei lavori di un problema che da diversi mesi, ancora prima che la Giunta si insediasse a Tanaglia gli abitanti di Mamuntanas e non solo, ovvero le condizioni precarie del Ponte Serra. Al via, come detto, i lavori, la manutenzione straordinaria con i primi lavori di messa in sicurezza che riguardano il rinforzo delle parti di sostegno. L'obiettivo è quello di riaprirlo al traffico quanto prima. Lavori al Ponte Serra si interviene per il ripristino delle condizioni di sicurezza della struttura. Un primo appalto urgente è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Conoci per gli interventi immediati di manutenzione straordinaria e recupero strutturale del ponte per le cui esecuzioni sono stati stanziati 30.000 euro. Le parti danneggiate dalla mancanza di manutenzione sono state individuate specificamente da una recente prova di carico e dalla successiva relazione di verifica che ha posto le basi per l'intervento immediato predisposto dagli uffici dell'assessorato alle opere pubbliche. I lavori partiranno a breve, non appena gli uffici procederanno all'aggiudicazione in via urgente dei lavori che consistono nel rinforzo delle parti di sostegno del ponte e della ricostruzione dei tiranti di eliminazione della spinta delle arcate e dei pendini di sospensione dell'impalcato. Dalle verifiche risulta che la struttura è priva ormai da molti anni di manutenzione ordinaria e straordinaria, il calcestruzzo armato in evidente stato di carbonizzazione, le armature e delle travi sono fortemente corrose e i tiranti dell'arco non adempiano più alla funzione originaria di resistenza meccanica. Altri 200 mila euro, spiega l'assessore ai lavori pubblici Andonello Peru, sono disponibili grazie all'implemento dei fondi operato dall'Aggiunta Conoci che ha incrementato la somma di 100 mila euro resa disponibili a giugno. Nel frattempo la procedura per la ristrutturazione del ponte procede con la progettazione delle opere che dovranno portare alla riapertura al traffico della struttura. Le risorse disponibili, 200 mila euro, dovranno garantire l'esecuzione dei lavori necessari per il consolidamento e messa in sicurezza del ponte con conseguente ripristino della viabilità. L'obiettivo è quello di consentire un ritorno alla normalità, ben sapendo che purtroppo a inizio mandato si è dovuto costituire un iter tecnico amministrativo in quanto non esisteva un progetto preliminare né una traccia di un procedimento tecnico che stabilisse costi e tempi per la ristrutturazione del ponte. Ed ora invece torniamo sulla notizia con la quale abbiamo aperto il TG ieri, ovvero la chiusura dell'aeroporto di Olbia per un mese che potrebbe generare disagi anche nello scalo di Alghero, visto che Air Italy ha comunicato di non voler spostare provvisoriamente i collegamenti nella riviera del Corallo. Stiamo parlando dell'arco temporale che va dal 3 febbraio al 13 marzo prossimi. Alla Nuova Sardegna l'assessore ai trasporti Giorgio Toddi ha dichiarato di aver riconvocato il comitato di controllo per mettere a punto un piano di emergenza. Si proverà a chiedere ad Alitalia l'aumento dei posti disponibili e dei voli che da Alghero vanno a Roma e Milano. Solina sbada a Bruxelles e chieda una deroga che consenta ad Air Italy di poter volare su Alghero con compensazione nei mesi in cui l'aeroporto di Olbi è chiuso per lavori. Questo invece è l'appello del segretario regionale della Filt CGL Arnaldo Boeddu. Air Italy infatti ha rinunciato a spostare i collegamenti su Alghero proprio per il fatto che nel nostro scalo Alitalia opera con compensazione finanziaria. Olbi invece Air Italy senza. Una campagna per chiedere l'insegnamento della lingua algherese nelle scuole cittadine. La Plataforma per la Lengua di Alghero ha attivato un sito che permette agli utenti di firmare una petizione che dovrà arrivare direttamente alla regione. Anche l'omnium culturale dell'Alghie si muove in questo senso. Negli scorsi giorni in occasione di un incontro con il sindaco di Alghero Mario Conoce e con il presidente del Consiglio regionale Michele Paesi, il presidente dell'omnium Stefano Campos insieme alla vicepresidente Carla Valentino hanno consegnato una lettera. La Plataforma per la Lengua dell'Alghè ha cominciato alcuni giorni fa una campagna per reclamare l'insegnamento in algherese. La petizione consiste nel richiedere che le autorità educative della Sardegna compiano ed applichino la legge 3 del luglio 2018, la numero 22, disciplina della politica linguistica regionale. Questo testo riconosce alle famiglie il diritto a sollecitare l'insegnamento nella lingua della città al momento dell'iscrizione a scuola. Però neanche quest'anno, si legge nella nota della Plataforma, l'opzione è stata possibile. La Plataforma per la Lengua ha attivato il sito www.analgares.cat che permette agli utenti di firmare una petizione e inviarla al presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Cristian Solinas. Nella lettera vengono esposte le cifre sull'uso dell'Alghèrese e si ricordano le evidenti implicazioni positive di valore economico, turistico, commerciale e culturale che la lingua ha per il futuro della città e anche per tutta l'isola. Secondo l'inchiesta El Slusus Linguistics Alghè del 2015, l'88,2% degli algheresi comprende l'algherese, mentre il 36,4% lo sa in modo fluido e l'8,1% lo sa scrivere. Però inoltre esiste un consenso ben più ampio del 92,3% degli algheresi che vogliono che l'insegnamento della lingua sia introdotto definitivamente nella scuola. La Plataforma per la Lingua ha informato le associazioni algheresi che lavorano per la cultura e la lingua, invitandole a supportare questa campagna come al momento ha fatto l'obra cultural dell'Alghè e si legge a conclusione di nota. E anche l'omnium cultural dell'Alghè si muove in questo senso e durante un incontro con il presidente del Consiglio regionale Michele Paes e il sindaco Mario Conoci, tenutosi lo scorso 11 di novembre. Il presidente di Omium Cultural dell'Alghè Stefano Campos e la vice Carla Valentino hanno consegnato loro una lettera il cui contenuto riguarda appunto la legge regionale 3 del luglio 2018, la numero 22, quella che disciplina la politica linguistica regionale e la richiesta di adozione di provvedimenti esecutivi della giunta per l'insegnamento del catalano di Alghero. Nella nuova legge regionale si afferma che la regione assume l'identità linguistica del popolo sardo come bene primario e individua nella sua affermazione il presupposto di ogni progresso personale e sociale. Secondo l'omnium questo importante principio è valido non solo per la lingua sarda ma anche per l'altra lingua storica riconosciuta dallo Stato italiano che è appunto il catalano di Alghero. La nuova legge regionale contiene fra l'altro, si legge, diversi articoli dal 15 al 19 raccolti del capo 3 che prevedono interventi nel settore dell'istruzione. In particolare si prevedono azioni relative alla quota regionale dei piani di studio, al coordinamento dei compiti in materia di uso e insegnamento, all'insegnamento e utilizzo veicolare, ai laboratori didattici extracurricolari, al personale docente e alla produzione di materiale didattico. Si tratta di norme fondamentali ed estremamente utili per favorire la promozione delle cosiddette lingue minoritarie fra le nuove generazioni in ambito scolastico, si legge ancora nella missiva. L'applicazione è pratica di queste fondamentali norme e quindi la fattiva possibilità di introdurre l'insegnamento del catalano di Alghero nelle scuole cittadine ricchia dell'adozione da parte della regione, nel caso specifico della giunta, di precisi provvedimenti esecutivi e questi in accordo con le istituzioni scolastiche regionali. Questa associazione pertanto, si legge ancora, invita il sindaco di Alghero, nonché il presidente del consiglio regionale, affinché promuovano nei confronti del presidente della giunta e degli assessori competenti una concreta azione di sensibilizzazione per chi adottino in tempi brevi gli atti necessari per l'insegnamento del catalano di Alghero nelle scuole cittadine. A conclusione di lettera viene ricordato inoltre che l'omnio culturale dell'Alghè ha collaborato con l'allora consigliere regionale algherese Marco Tedde e successivamente con Raimondo Cacciotto perché fosse garantita una migliore tutela del catalano di Alghero nella nuova legge regionale numero 22 2018. Linea alla regia, c'è la prima pausa per la pubblicità tra poco. domani giovedì 14 novembre cominceranno le attività per l'anno scolastico 2019-2020 delle scuole ad Alghero e Spasco al Scanu con la presentazione dei corsi e dei docenti in un incontro pubblico che si terrà nella sala conferenze dell'ex seminario in via Sassari 179 alle ore 18 e 30. Nella stessa occasione si terrà alla conferenza la nostra lingua Esun Giardì a cura di Francesco Ballone, direttore didattico delle scuole. L'attività didattica che si avverrà della collaborazione dei docenti Giuliana Portas, Maria Antonietta Salaris, Giussi Pascalis, Marco Carie e Francesco Ballone prevede tre corsi di ortografia, una classe di conversazione e un ciclo di conferenze in cui verranno scudate approfonditi temi legati alla nostra storia, tradizioni popolari, toponomastica, cucina e musica tradizionale. I corsi sono gratuiti e aperti a tutti e si svolgeranno nei nuovi locali del Centro Cultural Antonio Nugues in via Sassari 125. Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri 348-5425-474 o il 347-0591378 oppure scrivere unameilaescola.algareschiocciolatiscali.it Sabato scorso 9 novembre si è tenuta in cimitero la performance dei sepolcri che inizialmente era stata programmata per il 2 di novembre in occasione della commemorazione dei defunti, ma rinviata di una settimana a causa delle proibitive condizioni meteo. Pierluigi Alvau ha declamato il carme didascalico di 295 decassillabi sciolti dei sepolcri di Ugo Foscolo. A seguire la fluidità, la dolcezza e la contestuale autorevalezza del flauto traverso di Mauro Uselli che ha espresso in maniera convolgente l'esecuzione della suite numero uno in suol maggiore di Juan Sebastian Bach. Il pubblico presente è composto non solo dai fedeli che hanno partecipato alla cerimonia religiosa che ha preceduto la performance ma anche da numerosi e altri intervenuti ha dimostrato di apprezzare questo singolare momento di raccoglimento e riflessione proposto sotto forma artistica. Lo stesso cappellano canonico Pietro Scanu ha avuto parole di elogio e approvazione. La performance ha avuto un commovente epilogo con l'arrivo al cimitero del funerale del dottor Antonio Soggiu Cannelles, medico veterinario dell'ASL con il duo Uselli Alvau che ha riproposto alcuni passaggi sia dei sepolchi che della sonata di Bach. La direzione dell'Università delle Tre Età di Alghero comunica che nella sala del seminario di Via Sassari è stata allestita una mostra fotografica di raffigurazioni sacre della vita di Gesù tratte dall'esposizione di diorami di Francesco Bonvissuto realizzati presso la Basilica del Santo a Padova. La mostra resterà aperta fino al 12 di dicembre nei giorni di martedì e giovedì dalle 16 alle 18. L'ingresso è libero. E questa domenica 10 novembre la Cattedrale di Santa Maria ha ospitato alle 16 e 30 la cerimonia per la ricorrenza annuale dei quattro santi patroni dei muratori San Nicostrato, San Sinfriano, San Castorio e San Simplicio. Si è tenuto il passaggio del vessillo del gremio del vecchio obriere Salvatore Piras al nuovo Antonio Salis. Alla presenza del sindaco Mario Conoci, del presidente del consiglio Lelle Salvatore e del presidente del gremio Angelo Cacciotto. All'esterno della Cattedrale poi si è riunita ed è uscita la processione per le vie del centro storico. a rientro sempre in cattedrale si è svolta la Santa Messa celebrata da padre Gastoni e seguito alla Santa Messa un rinfresco nella vicina Sala Gallo. Il presidente del gremio dei muratori Cacciotto ha riferito che per la cittadina di Alghero, in particolare per il centro storico, questa è un'antica tradizione che appartiene anche ai suoi ricordi da bambino. Ci fermiamo per l'ultima pausa, poi lo sport. Ed eccoci tornati in studio, chiudiamo il TG con lo sport e con gli ultimi risultati dell'Alghero Marathon, in particolare di due portacolori della società algherese che hanno partecipato all'Authentic Marathon di Atene, giunta alla 37esima edizione classificata Gold e che dal 1994 ripete il percorso coperto nel 490 a.C. dall'Ederodromo Filippide per annunciare all'Acropoli la vittoria atenese sui persiani nella battaglia di Maratona per poi perire dalla fatica. Ad Atene c'erano anche Renato Catonio e Raffaele Piras, per il primo si è trattato della 16esima Maratona della Carriera, in questo 2019 ha corso a Boston e Barcellona tra l'altro. Ad Atene tempo finale di 4 ore 9 minuti e 42 secondi, con passaggio la mezza in 1 ora 54 minuti e 35 secondi. È stata una grande esperienza, faticosa come poche ma assolutamente splendida. Dall'ascesa che inizia il 12esimo chilometro e termina verso il 36esimo è pesantissima, non finisce mai e non d'acceno di alleviare a tutto questo si unisce la pioggia violenta che ci ha sorpreso dopo pochi chilometri per poi ripresentarsi nel finale. Memorabile ed emozionante l'arrivo allo stadio Panatinaico, ha detto il corridore algherese parlato di organizzazione eccellente, dopo la Roma Ostia e le Maratone di Parigi e Berlino, il 2019 di Raffaele Piras è andato in archivio sulla lunga distanza con la tappa greca. La sua settima Maratona in Carriera, la prima a Boston 2017, si è chiusa con la crono di 3 ore 44 minuti e 22 secondi, la mezza Maratona in 1 ora 41 e 59. Sempre domenica si è disputata la 21esima edizione della Maratona di Ravenna Città d'Arte, valida per il campionato italiano assoluto e Master 2019. Una maratona che tocca gli otto monumenti UNESCO World Heritage in uno scrigno di storia che conserva testimonianze preziose del suo passato, che ha visto Ravenna, città del mosaico, tre volte capitale dell'impero romano d'Occidente. A tre settimane di distanza dalla Maratona di Lisbona, Pietro Paschino ha portato a casa l'ennesima medaglia da aggiungere alla sua personale collezione. Tempo di gara 3 ore 15 minuti e 36 secondi, 34esimo di categoria e 240esimo assoluto. E dalla Maratona all'equitazione, perché nel primo weekend di novembre dall'1 al 3 è stata Ponte d'Aire in Toscana ad ospitare la manifestazione che si è svolta presso il circolo IP con lo Scoiattolo. Questo grazie al protocollo d'intesa firmato dalle due federazioni che ha fatto sì che si potesse tenere un concorso nazionale dedicato allo sport integrato all'equitazione paralimpica. Parliamo di dressage con campionato italiano per disabili intellettivo relazionali della FISDIR, attacchi, reining, volteggio ed endurance, invece le specialità messe in campo con l'intento di incentivare e agevolare l'inizio di un percorso verso l'agonismo degli atleti con handicap fisico, ipo e non vedenti e disabili intellettivo relazionali FISE. I cavalieri del club della Rivera del Corallo, quindi il club ipico Capuano accompagnati dal team formato da Alessandra Pess, Luca Steccato e Alice Mirabella, si sono distinti nel dressage, sia nelle prove del campionato FISDIR che del circuito integrato FISE, ottenendo prestigiosi e importanti risultati. Intanto secondo posto nella classifica per società grazie ai quattro migliori piazzamenti dei suoi allievi e al miglior risultato tecnico categoria Juniors conseguito da Giulia Madeddu e nella categoria Amatori da Alessandro Ginatempo. Passando al grado 3 avanzato, oro per Giulia Madeddu e bronzo per Paolo Mura, entrambi in sella Nostradamus. Quarto posto per Giovanni Del Rio in sella Tiodoro, quinto posto per Antonello Madeddu in sella Moser nel grado 3 medio, argento per Gaia Castali in sella Boera e bronzo per Alessio Madeddu in sella Darajan. Per il grado 2 avanzato invece argento per Alessandro Ginatempo in sella Boera e sesto posto per Domenico Rio in sella Corea. Nel grado 1 elementare Costantino Manunta si è classificato sesto. E allora complimenti a questi cavalieri del club ippico Capuano. Siamo in chiusura. Prima di lasciarci vi ricordo che questa sera alle 21 su CatalanTV ritorna l'appuntamento ovale con le gare in casa dell'amatore rugby Alghero. Alle 21 appunto verrà trasmessa la partita tra l'amatore rugby Alghero e Cus Genova giocatasi lo scorso primo novembre sul campo di Maria Pia. Le immagini saranno accompagnate dalla telecronaca di Davide Solinas. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.